MA First, let me take a selfie Benvenuti a tutti e benvenuti ancora un nuovo video su Destiny Ancora una volta pazzescamente pazzesco Come vedete raga abbiamo una nuova modalità Si chiama SRM Multiplayer Competitivo E voi direte ma che cazzo è sta roba in pratica raga Che hanno messo le gare degli astori che ve l'ho fatta vedere tipo qualche video fa Tipo dove vi spiegavo un pochettino come funzionava il tutto E davvero mi sto divertendo anche se mi sta sul cazzo quando tipo ti spingono via quello la E' proprio il crimine Come qua ragazzuoli ci andremo ad affrontare qualche garetta insieme Vedremo di arrivare i primi perché raga è assurdo come succede che tu sei primo ok? Poi arriva il secondo che gentilissimo ti da una botta all'ora proprio ti spinge E tu magicamente diventi ultimo Grazie Bungie Comunque ragazzuoli detto ciò godetevi il video Buona visione Ok Campus Martius Ci siamo raga Baia Meridiana Questa qua Cioè ci sono solo due mappe Purtroppo Che una è questa qua su Marte e l'altra se non sbaglio è su Venere Però questa qua mi piace un pochettino di più perché è un po' più larga Un po' più figa Un po' più figa Guardateci raga siamo qua E' una figata la cinematica iniziale è davvero spettacolare Stiamo utilizzando il rompicollo Perché per fare tutte le robe fighissime che vi volevo un pochettino far vedere raga E' un po' più lento degli altri Però sti cazzi Let's go 3,2,1 Go Attenzione è partito Siamo già primi Siamo quarti Siamo terzi Non capiamo niente raga Guardate quando saltiamo Guardate quando saltiamo Let's go Let's go Allora l'inizio di solito è sempre molto, molto tranquillo Perché stiamo tutti vicini, vicini Capito che ci diamo i bacetti Poi però dopo la situazione comincia ad essere Cioè cade proprio nella vertiginosità Perché quelli che ti danno i bacetti non sono più gente bella e carina Ma sono tutti stronzi bastardi Ora la facciamo raga Appena c'è un salto Eccola Si stanno venendo troppo addosso Però quando mi vengono addosso che ti sbattano troppo addosso Aaaaah Ecco, succede questo Avete visto? L'avete visto raga? Replay Let's go Oddio la curva fantastica La curva fantastica Mamma mia rimonta Rimontone epico E' secondo E' secondo Rossi c'è Rossi c'è Rossi c'è Attenzione Ok Schivale Cioè prendi quelle e schiva le ventole Ma è pazzescamente pazzesco Ha preso tutti i turbo Attenzione Stai calma Amanda Holiday Ma raga non potete capire all'ultimo giro Quanto si gasa che vi dice Forza è l'ultimo giro Una roba del genere Non ti arrendere Cose così E' proprio più gasata lei che noi Le cose che io faccio adesso in aria Tipo anche questa qua che andrò a fare adesso Si può fare solo con questa storia Anche questo Solo ed unicamente con questa storia Da quello che ho visto eh Non so se con gli astori quelli la Tipo quello la fighissimo Se si può fare Però con il rompicollo Vi essi col disegno Oddio si godo Oh Voliamo a ritmo della notte Uh 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 Un angelo proprio Grande Grande così Uh uh Ancora una volta Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Ancora un angelo Siiii Vai let's go Let's go La musica sembriva quella di star wars Quella che ha fatto il rumorino Oddio oddio Vai vai Abbiamo preso il timing Perfetto Stozzo si godo Godo mi ha spinto via sei morto Godo Non mi superare Non mi superare raga Non posso guardare la classifica a sinistra Da da destra Oddio Ah no L'avevo sconfuso per il traguardo questo raga Porca puttana Vai No Ho perso l'ultimo No 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 Ho finito primo Ho finito primo Ho finito primo Ho finito primo raga C'è Guardate per quanto pochissimo Oh mio dio raga L'ultimo sartellino proprio da angelo Mamma mia L'angelo della notte Ha rimettuto la notte Fuoco e fiamme ovunque Dove è l'angelo della notte Let's go Dove è il sartello Eccolo qua raga 7 secondi alla fine Se ne ha pure il clacson Uuuu Non l'ha fatto Yeee Wow wow Siamo carichi raga Siamo carichi raga Seconda gara Seconda gara Seconda mappa Ed ultima Ma sorvoliamo Let's go Siamo già a terzi Boh raga Comunque Allora qua ci sono un pochettino di C'è una scorciatura Tipo quella che prendevamo nell'altra gara Però ovviamente Un po' diversa Qua bisogna partire bene raga Eh tipo quello la non andava mai E' uno di quelli che liscio Quasi sempre Perché sono quelli che prendi Al 90% delle volte E quelli che lisci Al 90% delle volte Vai vai Che tra poco ci sta la mitica La mitica scorciatoia raga Ok buttati di là Bravo Forrest Gump Bravo Eh vabbè fa niente Fa niente anche se non hai preso il turbo Vai grande Grande Guarda come si porta terzo Guardalo come si porta terzo Uh angelo ancora una volta Fattiscamente pazzesco Non ci posso credere Nel portale Let's go A ritmo della notte A ritmo della notte Dov'è il nostro angelo Il nostro angelo è infuocato L'angelo è infuocato Uh 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 Ci siamo schiantati male Vai Hanno failato tutti Hanno failato tutti Sono molto recuperabili Non abbiamo preso il turbo Non abbiamo preso il turbo No no È troia merdosa Vaffanculo Prendilo Frena Gira mamma mia che curva perfetta Passa sopra Grande Forrest Gump Grande For No L'angelo della notte è un pochettino failato raga Anche questo turbo è andato Anche questo turbo è andato Dai Beppe che si va a Berlino Dai Beppe No No come ho fatto Ho sbattuto Eh sì vabbè Eh vabbè Sì siamo messi contro mano Mali mortacci loro Vaffanculo Dai Dai Figa L'angelo della notte L'angelo della notte Non si piegherà L'angelo della notte Avrà la sua vendetta Un giorno o l'altro L'angelo della notte Si rifarà Ormai la sconfitta è vicina La sconfitta è vicina Protezione Prostice Attenzione 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 Il mitico recupero Attenzione Tutti turbo Attenzione Siamo quinti Oddio ci siamo raga E ci siamo E ci siamo Leva la tabella dei punti L'angelo Dov'è l'angelo? L'angelo della morte Attenzione Della morte della notte Di poche fiamme L'angelo delle gare Degli Astori Yeah Quindi ragazzuoli direi Questo video finì al quale La prima partita Siamo arrivati i primi Abbiamo dominato completamente Tutti gli altri Questa seconda Siamo arrivati i quinti Però Devo dire che ce la siamo Abbastanza capicchiata Devo dire che non mi sono Incazzato più di tanto Perché ci sono quelle volte Esatto qualche volta In questa partita Che ti spingono E l'ho detto E' la cosa più odiosa di tutte Come al solito ragazzuoli Drop di merda Ma comunque ci siamo abituati A primo modo Come ho detto nel video L'angelo della morte Appena poi avrà la sua vendita Quindi fatemi sapere qui sotto In i commenti Se volete vedere un altro video Come questo Nell'ingare i suoi assori E quindi ragazzuoli Dio di salutare Alessandro Trattino Basso Eric2 Che è l'ultimo Che ci ha seguito su Instagram Non si vedrà mai Ciao Foto fuck the system Lasciamo like Sbam Quindi ragazzuoli Spero ovviamente Questo video vi sia piaciuto Spero che vi sia divertito In mia compagnia Mi sono divertito Mi sono sgolato Non ho più voce Ma in un modo ci sentiamo Domani Oni prossimi giorni Con un nuovo video Ciao Ciao E stai strafatto Bella guardiani Aaaaaah Droga Ciao 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 Grazie a tutti